Adesso le spiegheremo semplicemente chi è lei oggi e il suo passato non esiste più. Lui dov'è? Un uomo dal passato, una donna dal futuro. Siamo di due mondi differenti. Sembra che il tuo esperimento funzioni. Devi vederlo con i tuoi occhi. Abbiamo un fuggitivo. L'amore è al di là del tempo e dello spazio. Il suo fidanzato è in coma. Potrebbe svegliarsi domani o non svegliarsi mai più. Valsavia 2030. Benvenuto nel futuro. L'uomo della scatola magica. Giovedì alle 21 e 20. E a seguire, l'uomo venuto dall'impossibile. Rai 4. La guardi, la vivi.